L'ex sindaco di Stilo Giancarlo Miriello e l'ex assessore comunale Luigi Stilitano sono stati dichiarati incandidabili dai giudici della sezione civile del Tribunale di Locri. Nelle motivazioni del collegio civile si richiamano i risultati della relazione della commissione di indagine. Tale informativa, si legge nel provvedimento, ha evidenziato la continuità della presenza della criminalità organizzata nel territorio interessato e ha fornito una visione d'insieme dell'agire amministrativo come fortemente caratterizzato da irregolarità nel processo di formazione della volontà dell'ente, orientandole quindi causalmente al collegamento con il fenomeno consortile. I giudici di Locri quindi hanno ritenuto che l'attività del primo cittadino e dell'assessore Stilitano ha direttamente o indirettamente favorito gli interessi della criminalità organizzata, aggiungendo che non è stato confutato il quadro delineato con particolare riferimento a quel coacervo di situazioni che considerate sia separatamente che nel loro complesso esprimono l'idea di un agire amministrativo di fatto rivolto all'elusione sostanziale delle regole posta presidio della legalità ed in particolare a tutela della comunità civile da infiltrazioni mafiosi nella gestione della res pubblica. Condannati inoltre entrambi alla rifusione delle spese processuali. La difesa ha dieci giorni di tempo per depositare l'appello contro la decisione del Tribunale Locrese.